Ciao a tutti, molte persone saranno a casa e vogliono fare un esercizio o almeno un esercizio Ora vi mostro come scegliere la linea superficiale che incluiva la fascia plantare, la calda, l'armena, la rettospinae e l'occipitalo Questo è molto bene per chi soffre la fascia plantare, vi mostro Questo è il mio esercizio a questo momento, faccio un golf ball che si smasca per 2 minuti E' molto importante fare tutte le fascia plantare, tos, l'armena, l'armena e tutto per 2 minuti Se si sente una scuola, puoi scegliere la fascia plantare, in questo momento E' molto importante, se scegliere la fascia plantare, potrei spettare la fascia plantare, in questo momento I'm not going to do 2 minutes each foot, but you can do it on, I'm going just to show you the difference. I'm touching the floor now, I've done already, just 30 seconds. So 2 minutes each foot, you'll stretch all the body, all the back. Thank you.